Sono d'accordo con tutti qui, con tutti, perché a qualcuno non le piace quando dico che io già sono straniero, lontano da casa, so stare a posto mio, come per dire, ho qualcosa che posso fare per vivere tranquillo. E' solo quello che mi interessa, stare d'accordo con tutti, andate a chiedere ai vicini di casa. Lui sotto, quanto tempo non vedevi Pierina? Quando l'hai vista l'ultima volta Pierina? Ah, per adesso non mi ricordo. Lui, quella mattina quando sei arrivato giù e l'hai vista, come ti sei sentito? Quando l'ho visto mi sono sentito male, perché subito lì non poteva sapere chi è. Perché una donna che è sempre stata bella, preparata, anche se è alziana, non lo so come dirlo, anche se è una persona grande, è sempre stata tenuta bene, con i capelli e tutto quanto. Ma subito lì, con immagini che ti colpisci subito e ti vai in panico. E i capelli come l'ho conosciuto, il trucco non era come aspettavo. Per quello non ti potevo riconoscere subito lì. Quelle immagini mi dormentano, non dormo la notte per quell'immagine lì. I capelli erano tutti indietro, con una macchina di sangue nella bocca. Non siamo riusciti, oppure io non sono riuscito a sapere chi è. Non siamo riusciti, oppure io non sono riusciti, oppure io non sono riusciti.